Siamo completamente circondati da montagne perché siamo in una bellissima valle. Il consumo dei nostri computer e dell'illuminazione è assolutamente prodotta dalle nostre tecnologie. Accogliamo l'acqua piovana e questa serve per i nostri servizi igienici, quindi siamo assolutamente indipendenti. C'è anche in verità la piscina, il fitness, quindi praticamente la palestra e volendo, naturalmente essendo qua vicinissimo il laceno, uno anche in questa stagione può andare anche a sciare. Ho deciso di rientrare, ho avuto questa fortuna di lavorare in un'eccellenza, quindi ho conciliato le due cose, il cuore che mi ha portato a ritornare a casa e anche la possibilità di una gratificazione professionale. Le costruzioni, in questo caso vediamo una semplice abitazione, diventa non più la rappresentazione attraverso dei disegni bidimensionali creati sostanzialmente con delle linee, ma un modello tridimensionale. Continuiamo a crederci, continuiamo a crederci di andare avanti perché siamo convinti di avere grandi possibilità, abbiamo le potenzialità per farlo e lo fariamo.